guardiamo il calendario guardiamo addio a cosa no, oltre qua no se ne tu non è perché io ci favo l'ordine che siamo persi ma bella che hai perso, gli amava non c'è problema se devi fare un'altra partita quindi con la partita di quale di chi è questa cosa che stava in terra di chi era se tu hai scritto in bianco è la tua scuola scusa un attimo, noi con chi abbiamo giocato oggi mannaggia, non mi segui non è possibile, non è possibile silenzio un attimo, silenzio un attimo ma mica perché divertisse noi oggi siamo alla sesta alla Virtus Nettuno Nettuno bianco questa è azzurra noi siamo Nettuno bianca senza mettere Nettuno bianca senza mettere su bianco azzurra mi stai a capire, c'hanno due squadre no